Un saluto a tutti da Raffaele, DREX74, e con questa macro inizia il test di registrazione video a 1080p 30 fotogrammi al secondo con l'MHORSE PURE 2. Facciamo subito un cambio di esposizione, un pan veloce, camminiamo per testare la stabilizzazione, facciamo un controsole pieno, il riadattamento al cambio della luminosità, e concludiamo come al solito con un film, che in questo caso è digitale a 4 peri. Un saluto a tutti!